Saponara per loro è un giocatore importantissimo, ha dimostrato in queste gare il miglior marcatore dell'Empoli, ma al di là di quello è un giocatore di altissima qualità che sta facendo benissimo con l'Empoli. Detto questo, sapremo che troviamo un ambiente difficile, una squadra che vuole a tutti i costi far punti, ma io mi devo basare tantissimo sull'approccio e sulla mentalità di me, più che sulle squadre avversarie. All'allenatore dico che ha dato grande continuità a quello che stava facendo prima, sono cambiati magari alcuni interpreti, sicuramente all'Empoli è venuto a mancare un giocatore davanti alla difesa che conosceva benissimo in determinati tempi, è un giocatore molto giovane e molto interessante come Diussè che sta lavorando in quel ruolo, però devo dire che è sempre una squadra competitiva, che dal mio punto di vista meritava più punti in classifica rispetto alle prestazioni che ci sono state in precedenza. Noi ci teniamo stretti i punti che abbiamo, il campionato che stiamo facendo, le prestazioni, è ovvio che è un peccato per non aver portato a casa i tre punti, ci abbiamo provato, devo dire che però dal punto di vista fisico abbiamo speso tantissimo nella trasferta di Palermo e non ho visto la squadra brillantissima delle gare precedenti, nonostante abbiamo fatto una buona gara. Per noi è sempre una sfida di salvezza, al di là di tutte le chiacchiere che ci sono state, sono contento dell'intervista che ha rilasciato il Presidente perché ha una logica, purtroppo è più facile prendere le cose seriamente quando conviene e non capire le battute, per quello quando di solito si dice che noi diciamo sempre le stesse cose perché poi vengono magari travisate ed è normale che poi uno stia attento a quello che dice, io sono molto attento perché so quelli che sono i nostri obiettivi. Poi che siamo lì davanti siamo veramente ben felici di esserlo, di starci e magari di continuare ad esserci, perché no? Però sappiamo che ci sono delle squadre con grandissime potenzialità, che hanno investito tantissimo e noi in questo momento ci divertiamo, come ho detto in precedenza, e voglio che la mia squadra continui a divertirsi.